Allora io vengo da una sindrome della Peroni e ho attraversato 4-5 urologi prima di conoscere Gabriele Antonini, a mio parere per il problema che avevo dell'indurazio penis, non affluiva il sangue nei corpi cavernosi in quanto c'era una fibrosi dei tessuti che non facevano affluire il sangue, quindi a mio parere nella mia condizione attraversando, facendo un percorso attraverso altri 4 urologi mi hanno a mio parere preso in giro perché mi hanno fatto fare laser terapia, mi hanno fatto fare PRP che sono iniezioni di plasma nel pene per levare e sciogliere la fibrosi, che poi ciò non dico che non accade, ma se accade al 5-10% non serve a niente. Ho fatto le onde d'urto a bassa intensità studiate appositamente, chi da cervelloni israeliani, chi da cervelloni europei, chi da cervelloni italiani, che comunque non hanno fatto anche quelle, anche se avessero fatto un 5%, non mi consentivano di avere un rapporto con mia moglie soddisfacente. Finché all'ultimo vorrei sottolineare il concetto di dover affrontare un intervento e mettere una protesi probabilmente blocca tutti come ha bloccato anche a me inizialmente, però al pensiero di rovinarmi la vita, di essermela rovinata per 5 o quasi 6 anni, di aver buttato tanti soldi inutilmente, di aver avuto false speranze e di credere ulteriormente che questi quattro professoroni potessero aiutarmi, invece a mio parere fanno fare dei percorsi forse che a loro servono a livello economico, almeno nella mia condizione. con grande delusione mi sono poi deciso di incontrare il dottor Antonini Gabriele, in quanto ho detto perso per perso, l'avessi conosciuto 6 anni fa sarei partito immediatamente impiantando la protesi peniena, perché si ritorna ai vent'anni e anche meglio, perché a vent'anni ne fai una e ti fermi, con la protesi ne fai due senza levà come se dicevate ragazzini e quindi voglio dire, vent'anni, ritornare ai vent'anni e pensare, ripeto, di aver buttato sei anni per la paura di mettere un impianto, di subire un intervento, vorrei comunicare a tutti, a tutti che o per un problema di prostattomia o di indurazio penis non riescono ad avere dei rapporti normali o blandi, di non perdere tempo, di non buttare soldi inutilmente, perché se il problema è lieve, forse, dico forse, si può risolvere qualcosina, ma quando il problema è evidente e tangibile, vi assicuro non risolvete niente, c'è solo la protesi e ringrazio ancora di cuore il dottor Gabriele Antonini che mi ha portato all'intervento, mi ha preparato prima, mi ha fatto l'intervento e mi ha seguito in tutto e per tutto, al 100% dall'inizio alla fine, di avermi cambiato la vita, quindi il consiglio spassionato che vorrei dare a tutti quanti è di non aver timore perché l'intervento che può sembrare invasivo, non è assolutamente invasivo, tempo due o tre settimane di recupero, normale perché i punti, i tessuti hanno i loro tempi come se uno facesse un'ernia inguinale, forse anche meno perché con l'ernia inguinale ho avuto due mesi di dolori della retina, con la protesi ho avuto un paio di settimane di disturbi e poi chi prima, chi dopo, penso dalla terza settimana ricomincia ad avere già i primi rapporti e quindi grazie al dottor Antonini e che sia questo video di buon auspicio per tutti quelli che hanno ancora dei timori o dei dubbi, l'intervento che a me spaventava, che questa è la cosa fondamentale a mio parere, di affrontare l'intervento che può sembrare molto invasivo, invece è una passeggiata. Quindi grazie Gabriele che tutto questo vi possa aiutare, accompagnare e prendere una decisione sensata e non farsi prendere in giro, dai professoroni che con due onde, la PRP, le punturine, laser e quant'altro, iontoforesi, perché parliamo anche della iontoforesi, costosissima, alla fine andrete a spendere più o meno in 5-6 anni quello che sarebbe costato l'intervento, avete buttato 6 anni di serenità e rapporti felici con le donne o con vostra moglie, quindi che dire, pienamente soddisfatto, lo rifarei assolutamente, rancori di non averlo fatto 6 anni fa e sono anche emozionato nel dirlo, perché è la verità. Grazie Gabriele, non ci pensate un attimo, andate sereni e buttatevi a capofitto, perché gli anni che ho perso io vorrei non farvi perdere a voi. La protesi non si vede e non si sente, sembra di non avere niente, sembra di avere il pene naturale e soprattutto la sensibilità rimane assolutamente la stessa di quando il vostro pene funzionava bene e la percezione, il tatto rimane praticamente tutto identico. Quando c'è l'approccio sentite proprio come se fosse il vostro pene di quando avevate 20 anni. Egli avulazione è normalissima, anzi, si sente come se avesse una Ferrari in mezzo alle gambe, quindi dovete andare pure cauti, nel senso è veramente, si ritorna ad avere la sensibilità di quando dei 20 anni, non dico dei 30, 40 perché già lì magari un piccolo calo ci potrebbe essere, invece qui parliamo proprio dei 20 anni. Sensibilità come se avesse il vostro pene, la sensibilità normale, al tatto è tutto normale, una volta riposto è assolutamente normale, in erezione, assolutamente sempre ripeto, non mi stancherò di dirlo, come a 20 anni.